Riprendere insieme il cammino della missione, come pastori di una chiesa che è comunità del risorto, reagendo alla tentazione della fretta pastorale, della tristezza, del rimanere nel proprio recinto, seduti ai piedi del campanile, lasciando che il mondo vada per la sua strada. È il forte invito che Papa Francesco ha rivolto ai vescovi italiani, incontrati un anno dopo la professione di fede nella Basilica di San Pietro. Per la prima volta un Papa ha aperto, nell'aula del Sinodo in Vaticano, i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ai 250 cardinali e vescovi presenti, Francesco ha chiesto di accompagnare le persone fino a riscaldare il cuore, con un annuncio cadenzato sull'eloquenza dei gesti. Le sue parole e la testimonianza del segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino. Mi raccomando, l'eloquenza dei gesti. Come pastori, siate semplici nello stile di vita, distaccati, poveri e misericordiosi. Siate interiormente liberi per poter essere vicini alla gente, attenti a impararne la lingua, ad accostare ognuno con carità, affiancando le persone lungo le notti delle loro solitudini, delle loro inquietudini e dei loro fallimenti. Accanto ai tanti segni di grande speranza, di grande impegno, di grande voglia, ecco, di muoversi, di testimoniare, si vede che il Santo Padre vede anche qualche caduta di stile, vede anche qualche caduta di inizione. E allora benvengano gli suoi inviti a rinnovarsi nelle energie, rinnovarsi nell'entusiasmo, proprio per poter essere dei segni credibili attraverso non soltanto le parole, ma soprattutto attraverso gesti compiuti in linea con quanto il Vangelo ci dice, con quanto lui sta scrivendo attraverso i suoi gesti concreti. Sta scrivendo una bella enciclica, che non è ancora finita, che è l'enciclica dei gesti. La crisi economica è un'emergenza storica per l'Italia, ha aggiunto il Papa, e interpella la responsabilità sociale di tutti. Come Chiesa aiutiamo a non cedere al catatrofismo e alla resignazione, sostenendo con ogni forma di solidarietà creativa la fatica di quanti con il lavoro si sentano privati persino della dignità. Una Chiesa che non riesce ad essere segno concreto di speranza, una Chiesa che non riesce anche come motivazioni a rimettere in moto certi meccanismi interiori di grande partecipazione. Evidentemente una Chiesa che compie a metà il suo ministero non riesce a dare tutto quello che ci si aspetta da lei. La Chiesa non si è mai fermata, però soprattutto in questi ultimi tempi sta intensificando questi impegni. Il progetto Policoro, ma bisogna anche ricordare il prestito della speranza, bisogna ricordare, ripeto, anche progetti che in loco vengono realizzati e vengono sostenuti proprio dai Vescovi attraverso l'otto per mille. Alla vita ecclesiale italiana serve un forte e rinnovato spirito di unità, ha detto poi Papa Francesco, citando il discorso di Paolo VI ai Vescovi italiani pronunciato 50 anni fa, ma ancora attualissimo. Ne siamo convinti, la mancanza o comunque la povertà di comunione costituisce lo scandalo più grande, l'eresia che deturba il volto del Signore e dilania la sua Chiesa. Nura giustifica la divisione. E poi ha ricordato la nota dominante del Concilio, secondo Papa Montini. La libera e ampia possibilità di indagine, di discussione e di espressione. Questo è importante in un'assemblea. Ognuno dica quello che sente, infatti ai fratelli, e questo edifica la Chiesa, aiuta, senza vergogna, ma dirlo così. Quando il Papa ci invita a confrontarci, ci invita, lui diceva anche se necessario, oppure a litigare, ma lo dice proprio perché vengano fuori tutte quante quelle potenzialità che stanno dentro di noi. Io penso che una delle malattie mortali proprio per la Chiesa, per la società, sia proprio questa impossibilità a dover parlare, a doversi confrontare, a dover mettere in campo tutte quante le energie che ci sono.